Questa donna è Meryl Streep, vincitrice del premio Oscar per il film Kramer contro Kramer. Ora la United Artists la ripropone al pubblico mondiale con un film tratto da un capolavoro della letteratura moderna, la donna del tenente francese. Sai c'è quella scena del cimitero dove lui gli dice di andare a Londra. Se andassi a Londra soggio che diventerei quella che alcuni già mi ritengono qui a Lime. La puttana! Sara, che si completa nelle sue sfrenate passioni. E Anna, la fredda e distaccata professionista. La donna del tenente francese, dal romanzo di John Foles. Un film che la critica internazionale ha posto ai vertici della cinematografia di classe. Con Meryl Streep, Jeremy Irons, un film di Karel Rice, distribuito dalla United Artists Europa. E. 화in'ossa, il viore построito di un! E. E. Grazie a tutti